Ben tornati su Guido su server 2 con The Forest Con questo che dovrebbe essere il quinto gameplay di una nottata tranquilla questa Però penso che salverò questa volta E sicuramente dal momento in cui salvo No, non sono arrivati i ragazzotti Io penso di aver salvato Anzi si sta facendo quasi giorno Riprogrammo, riprogrammo a dormire Ok, adesso è più notte di prima Sembra di essere tornato indietro nel tempo Non ho capito perché questi uccellini del fuoco praticamente non si bruciano Ma spero che venga corretta questa cosa Purtroppo non ho fatto in tempo a prendere il mio coniglio per il barbecue del quarto episodio ed è bruciato Questa nottata tranquilla devo dire Non ci sono attacchi Di mostri strani Non so perché L'altra volta Arrivavano 10.000 persone Adesso Adesso no Ci sono le stelle Ora che bella nottata Sembra di essere al campeggio se non fosse per le teste Ehi tu non ti spegnere Ogni tanto Non ho capito perché gli uccelli vengono qui solo quando si è acceso Uccellini Facciamo un Non lo so Un bracere Questa notte è lunga Questa notte è proprio lunga Dovremmo crearci Che cosa posso caraftare con le monete Queste Questa e qui Niente Questo che è Cambio I denti possono essere usati Le piume Warcrafting Warcrafting Sono un sacco di cose che non ho idea di come utilizzare Combina Con che cazzo lo devo combinare il braccio Adesso posso prendere la scurcioni Gli uccellini Niente Non si Si prende la scurcioni Ok Vabbè Questo lo posso Lo posso mollare da ste parti Dai Oh Ecco Vado la braccia Eh Questo Questa cosa qui non so che sia Però Vabbè Proviamo a farla Tanto non dovrebbe esserci Problema nel cioppare di notte Ah è una sedia È semplicemente Una sedia Ah posso farmi anche una sedia Cioè non è niente di particolare È una sedia Ah se ne possono prendere due C Ok Posso prenderne due E questa è già una grande cosa Saperlo prima Mi avrebbe Semplificato un po' di cose Vabbè Oh questa Tranquilla Tranquilla notte Mi sta portando consiglio Mi servono Altri legnetti Porca merda Tu vedi se di notte devo andare a prendere i legnetti Io Si stanca Ragazzi Se vedo qualcosa a muovermi Mi cago in mano È solo colpa mia È solo Soltanto colpa mia Quindi Spero di non vedere robe strane Ok Il problema è che non ho un rocchetto di filo Ok Troviamo a mettere le piantine qui Tanto ce l'ho Ok Figo Forse ho bisogno di un pontile Platform Ok Forse vanno attaccate qua Proviamo Questa Questa notte è troppo tranquilla per i miei gusti Forse è perché non si aspettavano che scappassi dal Dal posto Non ho idea Ok È caduto dall'altra parte Cazzo è quello Alcuni suoni devono essere migliorati Assolutamente Ok Ho fatto questo Vediamo un attimo Se Posso attaccare La barca Adesso No Niente I casi non si potessero toccare Sta crescendo Sta crescendo Già Figo Allora Cerchiamo di mettere Qualcosa a fuoco Magari mangiamo Cosa a fuoco Solo dobbiamo stare qua vicino Adesso Facendo questo Facciamo una nostra lucertola alla griglia Pronto 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 Mangiamo Con una lucertolona abbiamo ricaricato tutto Bene Allora salviamo Vabbè Vediamo se è cresciuta la mia Aloe vera Aloe vera che sta salveggiando Ragazzi è stata una notte strana Troppo tranquilla per i miei gusti Troppo Comunque Ci vediamo alla prossima